e apri e adesso fai apri, 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 tre volte uno, due, tre e ora chiudo, e e ok, dai tanto dovrai ripieno eh quando chiude, tirameli su, quando chiude li porti giù 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 ancora i 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